Ecco, giovane, tu sarai il primo, cioè che ti ho chiamato giovane, sei fortunato, fai forza sulle gambe e alza il sedere. Signori, questa è la numero uno! Non mi sento! Papà, è il tuo momento, occhi alle figure di merda, fai forza sulle gambe e alza il sedere, signori, questa è la numero due! Papà, papà, tu tu erai l'ultimo rispetto all'anzianità, è il tuo momento, non capisci niente, ma fai quello che ti dico, alzalo, signori, questa è la numero due! E si recono che si intrecciate, che cosa! E' il tuo momento, non capisci niente, ma fai quello che ti dico, alzalo, alzalo, signori, questa è la numero due! Ma togliamolo, questa è l'ultima sedia! Sìììì! Allora, tutti insieme! Vai papà, tu! Vai! Fermi! Fermi! Michael, Michael, fermo lì, dammi una bella foto! Oddio! Ok, state così!